Buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale siamo tornati anche noi dopo una intensa pausa durante le feste ma ora siamo qui speriamo che abbiate iniziato l'anno nel migliore dei modi noi siamo sempre qui sul canale a proporvi ricette sane veloci alla portata di tutti e anche nel video di oggi faremo vedere delle idee e una giornata tipo di che cosa mangiamo noi speriamo che vi possa essere utile e che possa ispirarvi anche a voi e che le ricette vi siano utili se siete nuovi sul nostro canale iscrivetevi in questo modo ci supportate ci fa un sacco piacere e ci aiuta tantissimo e lasciateci anche un mi piace a questo video ora possiamo cucinare cominciando dalla colazione da noi è mattino e quindi cuciniamo perché abbiamo un sacco di fame di solito mi piace cucinare la colazione insieme e quindi ci vedrete in due questa volta e siccome abbiamo un po di farina di castagne da finire allora ci prepariamo dei buonissimi pancakes di castagne faccio io fai tu lui li fa più buoni cosa faccio allora mescoliamo la farina di castagne che sono 75 grammi con 40 grammi d'acqua sono molto semplici ragazzi veramente provateli se avete un po di farina da finire no aggiungiamo tutti gli ingredienti insieme un uovo un uovo si ok poi del sale e qui abbiamo del lievito in polvere per dolci un pizzico di sale e due grammi di lievito in polvere per dolci ok due grammi di lievito in polvere per dolci dopodichè prendiamo dell'olio con un pennellino spennelliamo la padella non molto è un pochino altrimenti andiamo a friggere lì dentro i pancakes prendiamo un cucchiaio e prendiamo un pochetto della pastella e lo mettiamo nella padella e ci facciamo i nostri pancakes voi potete farli della grandezza di cui che vi piace di più insomma io ho deciso di farli piccolini oggi e cuacciamo i nostri pancakes la padella è molto calda e uno è bruciato quindi uno si è un po' bruciacchiato ma è buono comunque non fa niente e dobbiamo soltanto girare una volta che vedete le bollicine sopra vuol dire che sono cotti sotto i disastri in cucina ok ragazzi una volta bruciati no scherzo li mettiamo su un piatto e poi cuociamo anche gli altri qua passo io a cuocere se no finiamo senza colazione e anche questi sono pronti con queste dosi io ho ottenuto circa 6 pancakes però ovviamente se li fate più grandi ne otterrete di meno e viceversa noi abbiamo deciso di accompagnare questi pancakes con dei kiwi ben maturi ma voi potete tranquillamente utilizzare anche un altro tipo di frutto qui li ho semplicemente sbucciati e tagliati a pezzettini piccoli questi pancakes potete anche prepararli in anticipo e conservarli nel frigo oppure congelarli vi consiglio sempre comunque di scaldarli prima di mangiarli potete anche accompagnarli con della marmellata oppure del burro di mandorle come abbiamo fatto noi siamo arrivati all'ora di pranzo e noi ci prepariamo una cosa semplicissima la nostra preferita in assoluto ma ormai penso che la conosciate un po' tutti una bella insalatona di quinoa adesso la prima cosa che dobbiamo fare è sciacquare 200 grammi di quinoa venite a questo punto la mettiamo in una casseruola aggiungiamo 400 grammi d'acqua quando comincia a bollire la copriamo e abbassiamo il fuoco al minimo a questo punto prepariamo i nostri ortaggi da aggiungere nell'insalata cominciamo con tre carote abbastanza piccole le mie, le peliamo e le grattugiamo ovviamente tutti gli ingredienti che metteremo nella nostra insalata sono facoltativi nel senso che potete sostituirli con ciò che vi piace al posto delle carote potete anche usare per esempio del sedano ora spostiamo le nostre carote grattugiate in una ciotola ora tagliamo anche il resto degli ortaggi qui ho del cavolo cappuccio, sono circa 300 grammi ovviamente potete usare anche della verza o della scarola, del radicchio scegliete voi quello che preferite la tagliamo a listarelle abbastanza fini mettiamo anche il cavolo cappuccio insieme alle carote aggiungiamo nell'insalata anche 60 grammi di olive verdi che tagliamo finemente uniamo anche le olive, ovviamente se non vi piacciono le olive potete tranquillamente ometterle ora io aggiungo anche dei pezzettini di tonno ma se volete vanno bene anche delle uova sode per esempio nel frattempo anche la nostra quinoa è pronta ha assorbito l'acqua benissimo si sgrana perfettamente ora non ci resta che farla raffreddare quando la quinoa sarà fredda la aggiungo in un'insalatiera unisco anche gli altri ingredienti e a questo punto do una mescolata al tutto condisco con dell'olio, del succo di limone e sale molto semplice voi potete usare olio d'oliva, di semi, quello che preferite aggiungo anche dei semi di zucca e mescolo il tutto ora assaggiamo per vedere se manca qualcosa non manca niente buonissima ed ecco qua pronto un pranzo facilissimo da fare veloce, con ingredienti sani e che si preparano in veramente pochi minuti potete anche prepararle in anticipo e così da averla per più giorni potete metterla nel frigo o portarla anche al lavoro finiamo con del prezzemolo giusto per dare un po' di colore in più e il nostro pranzo è pronto mangiamo buon appetito buon appetito ragazzi buon pranzo buon pranzo eccoci arrivati a cena ragazzi solitamente noi cerchiamo di restare abbastanza leggeri e quindi in questo caso prepariamo del pesce e verdure al forno e questa è solo un'idea ovviamente le nostre cene ma in generale i nostri pranzi tutti i pasti sono come avete visto molto semplici quindi questo è il modo in cui mangiamo noi ovviamente ognuno è diverso si possono arricchire i piatti poi in base ai gusti eccetera eccetera non vi sentite obbligati a seguire esattamente ciò che facciamo noi perché questo è solo appunto un esempio magari esatto per darvi qualche idea in più quindi noi abbiamo qua del pesce della trota salmonata due filetti e poi abbiamo scelto delle verdure insomma di stagione come i broccoli la verza e del cavolo cappuccio esatto che ci è rimasto da pranzo quindi perché non usarlo anche a cena e poi preparerò anche una salsa semplicissima con del prezzemolo per condire il pesce limone, prezzemolo, aglio in polvere, olio e sale semplicissima quindi cuciniamo perché ho famissima non so te dopo aver tagliato i broccoli e aver fatto disastro sul banco di lavoro mettiamo i broccoli nella teglia li distribuiamo ovviamente ok poi cosa facciamo prendiamo il cavolo cappuccio e facciamo la stessa cosa quindi lo tagliamo e lo mettiamo sulla sulla teglia vediamo un po' lo tagliamo abbastanza grande vabbè lo tagliate come lo sto tagliando di adesso ovviamente e facciamo la stessa cosa quindi lo distribuiamo sulla teglia adesso se hai dimenticato di dirvi le dosi comunque ho usato mezzo cappuccio mezzo cappuccio mezzo cavolo cappuccio ok e due broccoli due testate di broccoli ok circa non so 600 grammi due testate di broccoli dipende un po' di quanta fame avete e quanti siete in famiglia ovviamente ok adesso condiamo condiamo olio cosa mettiamo? cosa avevi detto che mettevamo? olio? olio e sale olio e sale sì sì molto semplice ok nel frattempo io ho preriscaldato il forno a 200 gradi usciste st'olio facciamo così facciamo prima basta ok sale sale quanto sale? eh vabbè non troppissimo ragazzi io sale le metto abbastanza eh così no vabbè devono essere gustose no? queste verdure altrimenti non sono di niente poi cosa metto? voglio vabbè mescolare un po'? non mettiamo un po' d'aglio in polvere ah sì vabbè se vuoi anche anche sul pesce e anche sulle verdure sì aspetta che ho le mani salate allora nel frattempo io prendo una teglia nella quale metterò il mio pesce ok 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 siamo quasi pronti per infornare io il pesce lo lascio semplicissimo con un po' di sale perché tanto poi prepariamo una salsa e quindi lo condiamo con quello è inutile che metto già olio, limone eccetera perché poi ce ne metto altro alla fine tu sei pronto? sì mi sciacquo solo le mani ok quindi adesso inforniamo a 200 gradi per circa 20 minuti il pesce le verdure magari ce ne vogliono 5 minuti in più comunque controlliamo dai vamos inforniamo ah che svampata di calore ragazzi è pronto si mangia e voilà ci siamo guardate che bella cenetta ma non è finita qui eh allora impiattiamo subito il pesce va mangiato quando è caldo ancora ragazzi una bella porzione di verdure doppia per Alessio perché lui mangia tripla e adesso non esageriamo ora non è finita qui adesso prepariamo la nostra salsina da accompagnare con il pesce quindi prendiamo un bel po' di prezzemolo un bel mazzetto e lo tagliamo finemente una volta tagliato mettiamo il prezzemolo in una ciotolina poi aggiungiamo anche circa 4 cucchiai di olio anche qui potete usare l'olio che preferite d'oliva o di semi poi mettiamo il succo di mezzo limone oppure di un limone piccolo poi mettiamo anche mezzo cucchiaino circa di aglio in polvere e infine del sale un pizzico così e mescoliamo il tutto assaggiamo per vedere se manca qualcosa mmm wow buonissima no non manca nulla e ora non ci resta che condire il nostro pesce con questa salsa meravigliosa semplice con pochi ingredienti buonissima dovete provarla assolutamente e ora si cena buon appetito ragazzi noi speriamo che questo video vi sia stato utile che vi abbia dato un sacco di idee per i vostri pasti se si lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale bravissimi esatto vi ricordiamo che se siete alla ricerca di un menù settimanale bilanciato e con pasti semplici ovviamente senza glutine e latticini per questo stile alimentare potete dare un'occhiata al nostro sito nutrimentecorpo.com slash sette giorni e se aderite a questo programma di sette giorni è un percorso nel quale vi aiutiamo con menù settimanale ricette lista della spesa già fatta e anche video per darvi quella spinta in più e sostenervi e motivarvi per appunto iniziare questo percorso visto che siamo a inizio anno e mettere giù le basi per migliorare la vostra alimentazione quest'anno adesso quindi andate su nutrimentecorpo.com slash sette giorni vi lasciamo il link anche qui sotto nella descrizione ci vediamo lì ci vediamo lì nel corso ciao ciao